Unica Focus Talk Show Benvenuti anche questa sera a questa nuova puntata di questo programma di approfondimento Questa sera siamo qui con Loretta Credaro Buonasera Loretta intanto Grazie mille, grazie come sempre dell'invito Fabio Insomma non potevamo esimerci visto che intanto andiamo un po' a vedere tutte le cariche ricoperte da Loretta Credaro ovvero Presidente della Camera di Commercio di Sondrio Presidente dell'Unione del Commercio e del Turismo e dei Servizi di Sondrio Vice Presidente Nazionale di Confcommercio e Presidente di Isnart Insomma ne avremo di cui parlare questa sera e siamo qui per questo Intanto partiamo dal turismo appunto visto che sta per finire la stagione turistica insomma c'è ancora qualche settimana di sci qualche settimana di neve ma poi la stagione turistica invernale è destinata a terminare a breve Qual è il primo bilancio sul territorio? Assolutamente un bilancio positivo oramai siamo ritornati e mi ripeto sistematicamente a tutti i dati pre-Covid e ai dati relativi al 2019 che è stato un anno veramente eccezionale abbiamo superato tra l'altro nel 2023 i dati del 2019 e anche il 2024 ovviamente fa registrare come dire dati sicuramente estremamente positivi per tornare alla stagione invernale la stagione invernale quest'anno è stata eccezionale si pensava che ci fosse ci potesse essere un calo come sempre ma è dopo il periodo natalizio invece c'è stato un trend assolutamente positivo registriamo 3 milioni e mezzo di presenze nella nostra provincia e non è di poco conto la parte del Leone ovviamente all'80 passa per cento la fanno Bormioli Vigno per cui tutta la zona dell'Alta Valle ma come dicevo non c'è stato un minimo calo di presenze e ci aspettiamo anche per Pasqua il tutto esaurito non c'è più un posto per Pasqua a parte che c'è una neve spettacolare e una quantità che credo che duri oltre Pasqua e oltre il 25 aprile insomma sicuramente appunto la neve fa anche la parte da Leone in questa prima parte dell'anno c'è già anche qualche insomma dato qualche previsione per la stagione primavera estate ci sono delle buone prenotazioni soprattutto devo dire come sempre nella parte dell'Alta Valle ma le prenotazioni ci sono anche per quanto riguarda la Media Valle la Val Chiavenna per cui sicuramente un trend positivo devo dire che la nostra provincia comincia ad essere attrattiva anche per l'estate non più solo per l'inverno perché la diversificazione che è stata fatta oggi si parla tanto di overtourism perché per cercare di riposizionare tra l'altro il turista non solo a dicembre non solo la settimana di carnevale non solo a Pasqua non solo a Ferragosto ma anche negli altri mesi e noi questo lo stiamo facendo lo stiamo facendo direi molto bene insomma quindi c'è anche appunto insomma il turismo invernale è quello che possiamo dire tira il carro però il turismo estivo a questo punto ha un bel insomma è in crescita quindi è molto in crescita assolutamente sì stavo guardando proprio ultimamente dati di Bormio relativi al 2023 la stagione estiva ha pareggiato dal punto di vista delle presenze la stagione invernale e non è di poco conto però teniamo facciamo riferimento al fatto che Bormio comunque ha tanta bici perché ovviamente all'interno di un panorama dallo Stelvio al Gavia allo stesso Mortirolo perché oramai le persone partono da Bormio fanno il Mortirolo poi arrivano al Gavia fanno lo Stelvio per gli appassionati per gli appassionati è da sempre un luogo sacro è incredibile per cui ovviamente non dimentichiamo tra l'altro Bormio ha un campo da golf che comincia a diventare attrattivo non solo per gli stessi abitanti ma anche ovviamente come plus per chi decide di venire in vacanza ci sono sempre le terme insomma offre un panorama e un ventaglio di opportunità di scelte turistiche non indifferenti assolutamente oltre alle passeggiate oltre al parco oltre insomma tante volte noi perché siamo qui a volte ci dimentichiamo di tutto quello che offre il nostro territorio ma ce lo segnalano spesso e volentieri gli stessi turisti che vengono da noi verissimo quindi insomma è un settore anche su cui puntare il settore del turismo estivo più di probabilmente dieci vent'anni fa immagino a questo punto possiamo dire così? assolutamente sì innanzitutto devo dire che il lavoro che è stato fatto da tutti gli addetti al settore turistico sta portando oggi dei risultati proprio nell'ambito dicevano della diversificazione turistica non dimentichiamoci che la parte del leone soprattutto per quanto riguarda la destagionalizzazione la fa l'inogastronomia perché da noi tanti soprattutto un turismo di prossimità soprattutto il turista del fine settimana arriva e viene per mangiare per gustare le nostre ovviamente il pizzocco il formaggio il vino l'aggi, vini la bresaula assolutamente prodotti di qualità che fanno caratterizzano anche il nostro territorio da un punto di vista culinario sorrido perché in questo periodo sta andando la cucina italiana diventerà nel 2025 patrimonio materiale dell'UNESCO per cui è legata tantissimo a quello che oggi come oggi si chiama turismo delle radici abbiamo fatto degli studi tra l'altro la stessa Confcommercio ha portato avanti degli studi proprio sul turismo delle radici non dimentichiamoci che fuori dall'Italia vive un'altra Italia nel senso che più di 60 milioni di emigrati oramai di seconda terza arriviamo anche alla quarta generazione che non vedono l'ora di venire di venire in vacanze in Italia per poter ovviamente rivivere quelli che erano i territori dei propri avi ma per poter gustare mangiare e apprezzare ancora di più la cucina italiana per cui e la valtellina ovviamente visto che è sempre stata una zona di emigrazione insomma devo dire che offre esporta oggi dà delle opportunità a coloro che ritornano e che vogliono riapprezzare la nostra cucina ecco tra l'altro Loretta Credaro ha questi dati ha molti di questi dati anche grazie alla presidenza di ISNART giusto presidenza che ha da un anno più o meno se non vado errato un istituto nazionale che si occupa di ricerche sul turismo ecco però giusto per capire meglio di cosa si tratta perché io l'ho detta proprio in una frase di cosa si tratta e come funziona non potrei dirla meglio io nel senso che è l'istituto nazionale di ricerche sul turismo e sulla cultura perché quest'ultimo aspetto ovviamente è stato appena inserito è un istituto importante tra l'altro arriva dalla grande famiglia del sistema camerale è una delle società satellite di Union Camera nazionale ha sede a Roma e cosa fa ovviamente ha processa dati per cui a livello nazionale ha degli accordi delle commesse molto importanti dal ministero del turismo e da Enit con il quale ovviamente lavoriamo in stretta collaborazione questa mega piattaforma processa ultimamente oltre 60 milioni di dati tra l'altro su tre fasi completamente diverse una veramente prende i dati a livello nazionale e li matcha per cui magari sarà con piacere che vi farò vedere una delle prossime volte proprio una di queste piattaforme perché ha i dati assolutamente granulari fino ad arrivare al piccolo paese di provincia dove vedi quante attività ricettive ci sono quanti ristoranti ci sono quante cose ci sono per cui è sicuramente come dire un punto di vista a 360 gradi su tutta Italia e ultimamente sta ovviamente entrando non più solo nel dato numerico relativo a quello che è stato perché noi abbiamo ovviamente i dati ad oggi definitivi fino al 31-12 del 2023 ma ha i dati diciamo quelli di predittivi perché ovviamente su una serie di campionature di interviste a campione verifica sia il sentiment che è la cosa più importante dei turisti sia quanto i turisti spendono abbiamo degli accordi tra l'altro fatti con alcuni network non li cito per evitare tra l'altro di creare magari dei problemi su questa cosa però ovviamente ci mancherebbe anche perché stiamo chiudendo oltre a quello che abbiamo già in portafoglio che stiamo chiudendo un altro accordo con un altro network che è veramente importante proprio per avere ripeto una completarietà di dati che sono fondamentali per poter dare come dire alle destinazioni alle varie destinazioni perché il nostro compito con Union Camera e Lombardia per cui con tutte le camere di commercio è quello di riuscire a creare delle delle destinazioni sempre più come dire formate più che altro più che attrattive informate e formate perché ovviamente devi dire cosa ha il tuo territorio cosa può avere il tuo territorio cosa ci si aspetta o cosa il tuo territorio può fare per migliorare la qualità della propria destinazione per cui devo dire che poi io do ovviamente da presidente delle linee di orientamento e poi tutta la parte ovviamente tecnica non compete non compete a me la fanno i funzionari tra l'altro è una bella struttura ci sono più di 30 persone che ci lavorano e la cosa importante noi abbiamo ad oggi questa collaborazione che oramai più di tre anni che abbiamo con l'università di Tor Vergata tra l'altro è una delle università in Italia per quanto riguarda il tema dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale su ovviamente una serie di sviluppo di dati molto importante direi forse la più qualificata la più importante che è quella che poi ci permette abbiamo due ricercatori fissi all'interno della stessa università non è poca non è poca cosa adesso stiamo chiudendo un accordo anche col Politecnico di Milano con il quale abbiamo già siamo già in una fase piuttosto avanzata e cerchiamo ovviamente in questo panorama perché oggi come oggi parlano tutti di turismo di avere come dire di essere un punto di riferimento importante lo siamo lo siamo già per quanto riguarda il Ministero del Turismo con il quale stiamo portando avanti questo portale che è Italia.it dove tra l'altro invitiamo tutti gli operatori ad iscriversi perché ovviamente sarà un punto di riferimento estremamente importante e sarà per il Ministero del Turismo un un punto di visione fondamentale per cui andranno a prendere dati da quel portale andranno a fare come dire iniziative riferendosi a questo portale e noi stiamo lavorando con loro per far sì che gli accessi a questo portale siano importanti e comincino a diventare significativi per avere ovviamente dei riferimenti immagino anche per esempio si parlava nelle scorse settimane anche delle scie digitali anche qui in Valtellini e Val Chiavenna voglio dire immagino che tutto il lavoro di ricerca centri anche con questa tematica immagino assolutamente sì è uno degli sviluppi ultimi anche da parte di ISAT ripeto sempre in collaborazione con Enita e con il Ministero del Turismo ce la mettiamo tutta per riuscire ripeto a raggiungere questo obiettivo che deve essere di supporto a tutti coloro che all'interno poi del sistema vorranno creare e capire cosa vuol dire avere una destinazione turistica cosa vuol dire lavorare nel mondo del turismo che non è poca cosa ricordiamoci che partiamo sempre dal fatto che oggi il turismo è la prima economia comunque in Italia si parla del 13% di PIL ed è un dato se vai a vedere tutto l'indotto sottostimato ok insomma non è poco comunque già il 13% di PIL turismo e non solo insomma qua in Combe c'è questo countdown che giustamente va avanti o va indietro a seconda di come si si vedono i numeri le Olimpiadi ecco com'è in questo momento il tessuto turistico del territorio il tessuto economico insomma quanto siamo pronti effettivamente alle Olimpiadi in questo momento ma io sono sempre un inguaribile ottimista me lo dicono tutti devo dire che secondo me siamo ben come dire indirizzati per essere pronti per il febbraio 2026 ovviamente dobbiamo metterci tutti un po' del nostro io mi sono spaventata quando il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è venuto poco tempo fa un mese fa tre settimane fa un mese fa in Camera di Commercio ospite della Camera e una delle prime cose che ha detto mi sono pentito di aver fatto ovviamente fatto arrivare le olimpiadi in Lombardia e in Italia però poi insomma ha ritrattato un pochino però il primo momento oddio io avevo le sue caviglie vicino ai miei piedi volevo tirare un calcio su questa cosa poi ovviamente non mi sono permessa di farlo però sono rimasta un po' basita rispetto a questa a questa dichiarazione che poi ovviamente ha spiegato ed è stata come dire dare una scossa a tutto il sistema quello nazionale ovviamente si parla dal punto di vista politico anche un po' a quello locale per certi versi perché ha detto ma insomma anche questi imprenditori un po' un po' devono devono crederci perché l'idea che era quella che si cominciasse ovviamente anche noi a crederci noi ci crediamo e ci crediamo tanto e devo dire dal punto di vista delle infrastrutture insomma lo vediamo guardavo questa mattina che mi hanno ovviamente dato in mano questa rivista questo giornale e ovviamente c'è una foto ufficiale di Anas che ci fa vedere i lavori della tangenziale di Tirano e io sono rimasta l'ho guardata pensavo fosse una foto di repertorio e invece mi sono trovata la foto effettiva della galleria perché quello che non galleria lo si vede quotidianamente io vedo che lavorano di sabato di domenica di notte per cui passo frequentemente però la galleria non l'avevo mai vista devo dire che questo mi rincuora per quanto riguarda ovviamente le tempistiche il resto lo vediamo vediamo sempre dei gran lavori sulla ferrovia che non dimentichiamo ci sarà uno degli assi importanti e fondamentali vedo Livigno estremamente in fase di sviluppo di organizzazione e la vedo estremamente pronta conosco un po' meno la realtà di Bormio parlando con il sindaco mi dice anche lei che stanno facendo passi da gigante il tema della ricettività comunque sta facendo anche esso veramente degli sviluppi incredibili perché vedo alberghi cantieri soprattutto in altra valle ogni dove certo dovremmo un po' noi adesso partirà sicuramente dopo il discorso delle olimpiadi di Parigi partirà proprio anche il momento istituzionale con le scuole con con tutti gli stakeholder dove ci saranno eventi su eventi per arrivare ovviamente poi al momento delle olimpiadi però siamo un po' noi che dobbiamo cominciare a crederci e ad averne come dire contezza perché sennò rischiamo di trovarcelo tra capo e collo però ricordo perché è sempre più vicino insomma è sempre più vicino ma io ricordo come dicono oramai tutti che la prima giornata ovviamente la giornata dell'inaugurazione delle olimpiadi ci sono collegati oltre 3 miliardi di persone una cosa che non riesci neanche ad immaginare per cui mezzo mondo sì sì assolutamente quasi mezzo mondo per cui insomma è quello che lascia dopo sarà il nostro veramente punto di partenza per come abbiamo lavorato prima ma non ho dubbi io sono ottimismo insomma ottimismo sono una cosa poi non le voglio togliere la parola oggi come oggi secondo me anche questo turismo sempre in crescita soprattutto nel periodo invernale soprattutto nelle zone di Bormio Livigno secondo me è già come dire anche il risultato di un effetto delle olimpiadi ok beh già questo quindi insomma è molto è molto positivo obiettivamente abbiamo parlato tanto di turismo non c'è ovviamente solo il turismo in provincia di Sondrio per concludere gli ultimi due minuti come sta andando in generale il comparto economico provinciale ha retto bene nel 2023 devo dire molto bene ha retto bene il settore dell'artigianato legato alle costruzioni anche soprattutto per il momento storico dei vari contributi legati alle varie alle varie ristrutturazioni regge ancora e speriamo anche se prospettiamo tutti che potrà avere un calo abbastanza significativo ha tenuto il mondo dell'agricoltura ha tenuto il settore manifatturiero anzi con un un aumento dell'internazionalizzazione per cui delle esportazioni la provincia di Sondrio è stata la provincia che ovviamente in percentuale ha avuto un maggiore esploit nel 2023 per cui sicuramente è positivo abbiamo parlato prevalentemente del mondo del turismo per cui neanche da dire è stato un anno assolutamente incredibile ha retto ha retto il commercio perché soprattutto quello legato al tema turismo perché sappiamo che il commercio soprattutto il commercio di Porsimità insomma qualche difficoltà oggi ce l'ha e continuiamo a sostenerlo per quanto riguarda ovviamente la concorrenza del turismo online insomma ci sono delle problematiche un po' diverse il sistema economico valtellinese Valchiavennasco della nostra provincia ha retto bene confidiamo che possa reggere nonostante questi scenari geopolitici che sono tragici e che quotidianamente vediamo ma speriamo non incidano così in maniera negativa anche sulla sulla nostra economia speriamo di noi infatti grazie mille per essere stata con noi Loretta Credaro grazie grazie davvero grazie veramente a lei della chiacchierata è sempre un piacere essere con voi ci saranno anche altre occasioni ovviamente prossimamente grazie grazie di tutto l'appuntamento è sempre qui su Unica TV sempre con il focus in onda dopo il telegiornale e buon proseguimento con i programmi di Unica TV come intervista il mi sfugge la parola adesso il primo bilancio è invernale ah ok come vuoi va bene eh sì o volevi perché io visto che sei qua e non sei qua spesso